La corda è 60 metri, intanto che lui è morto, però venire a vedere di notte. Ci siamo trovati a dover dare una mano a altre persone in difficoltà e questa cosa mi ha portato molto vicino al soccorso e a farmi capire che la strada da intraprendere era quella del soccorritore. Le persone che frequentano la montagna hanno ancora bisogno di aiuto. Ma la montagna non è mai stata sola. Grazie. Grazie. Grazie.